L'intelligenza artificiale, come oramai possiamo vedere su tutti i telegiornali, in tutti i mezzi di comunicazione, sta diventando ovviamente pervasiva in ogni attività umana e soprattutto nelle attività umane che producono dati, visto che quella di cui principalmente mi occupo è l'intelligenza artificiale data-driven. L'intelligenza artificiale nasce nel 1956, quindi oramai ha accumulato 70 anni di esperienza, ma solo ultimamente è riuscita a restituire in modo positivo le aspettative che aveva creato nei primi anni. Perché questo? Perché fortunatamente si è venuta a creare un'ideale combinazione di tre fattori chiave. La disponibilità di una grande mole di dati, la disponibilità di nuovi algoritmi in grado di elaborare questi dati e di estrarne le informazioni che ci servono, e una potenza computazionale che era fino impensabile fino a una decina di anni fa. Questi tre fattori hanno fatto sì che tutto quello che l'intelligenza artificiale prometteva di fare fosse, sia stato possibile metterlo a terra e come stiamo vedendo ora, tutti i campi delle attività umane sono in qualche modo toccati da questa rivoluzione, da questo nuovo paradigma di apprendimento. In particolare, quello di cui mi occupo io è la parte della sanità, ovvero come l'intelligenza artificiale sta impattando, per esempio, il sistema della medicina. Nuove tecniche per l'analisi dei dati o per la diagnosi, prognosi e predizione legate al mondo delle cartelle cliniche digitali o al mondo delle immagini sia diagnostiche che di patologia digitale, o anche a tutti i nuovi dati che provengono dal sequenziamento omico dei tessuti. Questa tecnologia e queste ricerche, queste innovazioni, non solo sono confinate al laboratorio di ricerca, ma attraverso la medicina traslazionale, come si dice in inglese, sono passate from bench to bedside, sono arrivate ad essere veri e propri strumenti clinici di uso comune, o se non comune, di uso attuale negli ospedali, sono certificate per uso clinico e quindi sono diventati dei veri e propri strumenti di supporto per i clinici, per i medici in varie specialità. Questo è l'obiettivo che ci poniamo ogni volta che pensiamo a un nuovo algoritmo, sia esso diagnostico, sia esso prognostico o predittivo, ovvero l'idea di portarlo verso la clinica il più presto possibile, in modo che possa diventare davvero uno strumento a disposizione della medicina di tutti i giorni.